Ma i nostri fratelli vogliamo pace per favore, pace, pace per tutto il mondo, pace in Ucraina, pace! Slavo Ucraini! Slavo Ucraini! Slavo Ucraini! Slavo Ucraini! Niente guerra! Piange. Adesso è molto preoccupata perché lei sempre sta a metro. Abita a metro, la sentita. Putin! Putin è satanà! Volemo tutti che lui se ne vada a terra nostra. Solo questo. Libertà, nostra libertà. Deve soffrire solo una cosa, non lo so come. In 2022 Russia invade così Ucraina sparando contro il popolo, non solo zone militari, ma anche contro il popolo. Io ho miei sorelle, fratello, metà di mia famiglia, più grande metà di mia famiglia che stanno lì, che stanno soffrendo ogni giorno. Perché chiacchiere abbiamo fatti tutti troppi, non ci servivano niente, noi chiedevamo fisicamente aiuto. Putin! Assassino! Putin! Assassino! La seconda guerra mondiale, in Europa non c'era la guerra, oggi abbiamo la guerra in Europa e il dovere della comunità europea fare di tutto per fermare. Ucraina, siamo qui per Ucraina, siamo qui per Ucraina, per dependenti Ucraina, per Libra, per nostra lingua, per nostra storia che è stata cancellata, per miei genitori che mi sono tutta sua vita. Ucraina, 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 ucraina. Ucraina, 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 ucraina. Libera! Ukraina libera! Si alla pace, non alla vera! Si alla pace, non alla vera! Si alla pace, non alla vera! Putin asasino, Putin asasino, Putin asasino! Non alla vera! Putin asasino, Putin asasino! Putin asasino! Putin asasino, Putin asasino!